Sono con Alexis Sanchez e meno male che aveva preso una botta contro il Cagliari, non dovevi star bene? No, no, tranquillo, tranquillo, ancora mancano 50 minuti e è difficile. È difficile, una partita difficile, avete però creato tanto, siete andati tante volte davanti al portiere, cosa vi manca per arrivare al gol? Finire la giocata bene e fare gol è quello che manca, però è una squadra difficile e hai che essere cattivo negli ultimi 20 minuti. Guidolin vi chiede concretezza, però tu ogni tanto il colpo di tacco ce lo metti, non resisti proprio? No, no, il calcio è così. Grazie.